percorriere percorriere apolo devo dire le limitazioni alle armi di posizione lui come devo dire a proposito di piacere eh sì perché sono la fiola ho fatto fuori uno con my das a parte una chest via spacco qua o anche il pompa ottimo ho già su una mitraglietta una pistolina no merda l'ha aperto solo già ottimissimo un'altra mitraglietta che non mi serva niente gente da me come vabbè prova un ammazzo una pillata l'altra qua morta io no 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 loitato e bianco fatto meno male e la bianca c'è non cazzo nessuno poi sono scarso non costruire sono un botticello grazie vado che faccia inquietante che la gioca o passi sentivo passi sento ancora passi verso la non so vabbè io scappo oscitto o o da lì da lì ma ecco le navi fatto via 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 devo farle bene arrivo a un secondo che abbiamo fatto da anni arrivo c'è bisogno avete fatto io arrivo sempre dopo tre ore quello che ho mai detto è la seconda volta che lo faccio che lo mandavo a terra le varviola lo vuoi? no è una cosa che più o meno so usare a questo mito che non mi serve a niente mi fu lo shield a posto io posso sopravvivere non è vero scherzo sono scarso mi butto di sotto abbiamo 5 kill totali no io ne vedo 3 totale non so perché ne vedo 5 no non so vince quante chi là hai? c'è qualcosa di viola qua gente da qua in questa casa lì? sì proprio dove sono io sotto al mio tetto praticamente ora oh c'è sto leggendario mi tenete compatta la vuoi? tanto non la so usare oh pigliatela tanto faccio pena a usarle armi sono scarso no vabbè vabbè per cui esisto occa dov'è? non è stato anche questo è un'alpino vanta meno ma ecco lì faccio espodere il benzina no non ha senso no perché questo si vuole attaccare cose che si questo scarsoso scarsoso se ti interessa un nuovo termine conventatore dove ti metto? uno lì un tipo mi vuole snapperare fatto ok è un altro trio ottimo morto oh lui o lui ha il pompa leva qualcosa perché non c'è un pompa cioè c'è la pausa oh qua c'è un attimo oh 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 no 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 scudo scudo ce l'avete sì scelini qui c'è un xp non so se l'avete già preso è un atteso no appena entri il cancello l'hai visto mi ha preso ah buono siglino ancora ah no allora questo qua questo ok io sono sicuro che è l'altro qua dentro no qua c'è una cappa lo piglio anche se bianco non mi affida niente tanto fa schifo cosa c'è di è più che vedo ti noto salti towers non è in zona cosa c'è qui ah il mio ping oh gente gente integrate granate granate gente una terrata non so sulla terrata io però comunque vado io vedo 10 film totale c'è un altro c'è un altro c'è un altro qua da me lo chido mi lasciate la lasciata morto uno gente anche la sopra ha cesso non c'è ecco io c'è un fucile a leva mi chiamo mi hanno messo da con tutti i colpi che ha salato aspetto che riesco lasciate ma materia che schiena è l'inx l'inx lo so io non lo conosco bene così bene oh ma da dove da dove da dietro da dietro come ha fatto sono morto io dov'è è a terra non lo so per me non mi ha lasciato da dietro mi devo fare un merito aspettato un attimo ho chillato quando ho chillato e rimacchilato non so se capito e dai vieni vieni su qua quindi sono chillato e due arrivo tre secondi arrivo uno due via eccomi cioè almeno prova arrivare più che altro perché oh ok c'è un tuo merito tu ce l'hai il medico io sì io c'ho un medico ok ne avevo due cilini cilini avete no io non cilini non ho lasciato uno un attimo per prendere il merito e portato mi faccio il medico te lo tiro va bene te lo lancio dovrebbe arrivare la safe aspetto che hanno sentito uno qua dovrebbe essere un problema la safe no da sopra mi ha laserato se non esco dalla safe ci muoio io ah ok bende ok ho dovuto muovere il tuo shieldino eh per prendere le bende fatto io adori ce ne dividiamo io esco e ho tenuto le bende quindi eccomi fuori sono fuori granate ma dovevo ma perché hanno lasciato le granate game se vince se ti vuoi farle bende ah no sono o no non lo so sono lì dove sono oh ma eccoli lì sono arrivati ora iris nooo da sopra guardalo ma dopo che infamano quella mia quella mia guarda una morto no morano c'è uno ancora ah è lì è iris ma la serata io l'ho fatto due tre vite hai fatto ma siete dei proi sono scarso mi sento molto scarso su 16 kg abbiamo c'è il medikit no sole vende va bene una e due perché ha anche altre qua me ne faccio cosa secondo ti posso fare lo push vince lì ci sono le vende se ti interessa ah no dai quindi parlo come uscire da solo effettivamente scusate la pannocchia è cambiato secondo te cos'è meglio pompa blu o pompa leva non so pompa leva avete un'ultima poi se non trovano un altro io ho delle vende ho 15 vende le porto dietro tanto così no c'è bella 6 conto di nuovo c'è bella no non è che becchiamo il fucile quello di mandalorian se c'è vabbè 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 io provo andare sotto la sabbia via cazzo mi ha preso se no non vi raggiungo più se non vado sotto la sabbia un attimino un attimino perché se non riesco c'è non vado mi viene a safe punto eccomi veloce come superman ma ricordiamo che abbiamo gente davanti eh beh io sto superando cioè sull'anno la sabbia per venire più veloce da voi ah e ricordiamoci che qua c'è da salire la montagna e non c'ho mazza quindi ottimo io salto adesso allora uso la tua scala io sono salito mi conviene salire di qua mi conviene andare in diagonale no poi non riesco più ahia come on no ho sprecato colpi a caso io c'ho quattro medikit ah vabbè io 15 vende sento sparire sulla attenzione perché potrebbe esserci botta eh non so quello che mi preoccupa no 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 c'è la città di coltuzione allora allora se riesco a sbappare uno allora aspettate ad attaccare aspettate ad attaccare non so se c'è la buona però che merita aspettare quindi non ho spavato non sto facendo meriti il tio a me ne va bene sicuramente non vuoi ti fare le bende ma magari per prima a parte che vuole la terra 1 ma sono quelli di prima mi sa no cosa le stesse skin ma perché con gli altri di prima le avevano tutti eliminati c'è un'altra team è qua sotto io ho paura di attaccare azzerrato 1 no non c'ho vita non c'ho vita non c'ho vita ah sei te devo farle lascio qua un tattico viola bene bene ok vengo io vengo io vado io non c'ho vita ok ora si c'è per dire sì per dire faccio questo una forza che mi ha lasciato vince grazie fatto a me c'è uno no sono morto no mi finisce sono qua sott'è no sono trovato va bene oh lì ci sono i poteri di cosa li prendo non lo so io a dire la verità non so come sono fatti sì praticamente ti rendono invisibile il città però ti si vede un po' la sagoma dietro sono dietro no è sopra ah ok e io avevo visto tipo uno scar da qualche parte però non mi ricordo vabbè quando la finiremo e ammazzeremo questo nabbo no si sta curando mi sta curando guarda un po' come ho fatto prendendo una caduta cazzuto di merda l'ha ucciso no non ancora l'ha ucciso no è ancora sopra ancora sopra questo ma dove è scappato e laggiù no mi hanno sniperato non ci posso credere per fortuna avevo quello no ancora mi provano a sniperare perché basta mi devo cambiare così non ho capito da dove sparano da verso est forse est dalla colline est più o meno non so verso la verso c'è no no cosa va che faccio provo a usare poteri andando invisibili e non so no perché abbiamo poco c'è di mezzo qua c'è il l'air drop magari ci da un po' di cure prova a farlo cadere comunque verso la da quanto ho capito per da quella montagna ok anche però sento spari verso lago ovviamente sono lì è sì spari verso l'assento più o meno fare il sale oh c'è un medici america lo piglio lo piglio ma lo dice bene però eh non la ricerciamo cerco di andare io se me le piace devo fare questa strategia Non so di un telemovisibile Magari mi si vede un po' di meno per correre Non credo che serva qualcosa Sergio il pompa me lo puoi lasciare qualcosa Sì, sì, la metà Ok, ok Lasciami quello lì che è morto Il pompa Ah, ok Lasciami quello lì che è morto Ah, resta, resta, resta Ah, posso rimanere invisibile? Merdi Eh, non so se ce l'ha fatto No, non ce l'ho fatto Metti il pompa, il pompa, il pompa, il pompa in mano, vai Che sfiga, che brutta cosa Nessuno mi può stare No, ma da chi? È tutta dietro, vedi da dove? Nessuno mi può stare Ecco lì, infame Sta restando Spara, sta rettando Vabbè Vabbè Che mafia Non so se ce la facciamo No, non mi finì Maledetto Maledetto No, come qua però Allessarci lui No, non lo so Non può Non può, è quel problema Sì, se si porta dietro i merichi tu magari si Però vai, no Deve provare fin quando È già pronta il cost del bus Può andarci a restare ora È però di planca la schiena di via Esatto Vai, vai Ce la puoi fare Edita, edita il muro È pronto, è pronto il bus Vai Lasci di stare È no, è poi safe Vabbè, c'è la due me è un merito Ce la puoi fare Non è che sia così lontano Deve trovare il punto preciso La scheda sta di sé, è giusto per scadere Vabbè Quindici E' dietro sotto di te, davanti Ok Vai, faccio a restare Ora devi andare 20 secondi 26 secondi Vabbè, cerchiamo Non c'è la cosa che devo farvi fuori Vai, vai ora No, vabbè, no Semmai è uguale Tanto non sono mai uguale 15 secondi Devi andare ora Devi andare ora Non farà niente Sì, non, sei morto Vai ora Vai ora Vai ora Cori, corri, corri Salta, salta Buttati giù, vai No, non ce la fa Grazie Grazie Stavo portando via Yes Ah, per tanto la vita reale Non ci sto credendo Non ci sto credendo Sò mi è di vita È pieno È pieno È pieno Super bianco ottimissimo carica il pompa magari non so yes no si è curato cosa fa lanciarazzi che anche qualcosa di capitato fa venire più veloce o sono tutti di sotto oltre mentre usa lanciarazzi stanno non sanno bilgarlo lì li vedo giallo carbo vabbè dirgli che provino a prenderlo troppo te usi lanciarati appena si avvicinano lì sotto non possono fare un cazzo avvicinati da un bella lanciarazzata fa un salto e spara con razzo ti consiglio di pulsare uno a uno perché se no se ti pusto in tre è il problema il problema che c'è non in solo è infatti quello sei solo quello no è peggio perché poi quando scende in volo essendo classe che piccolo laser no 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 perché ti vogliono pusciare troppo scarci a loro ok vai uno ha ucciso una cosa sono ucciso 1 ops problema molto grande problema ma piccato c'è la safe contro e si è morto no perché ah perché che devo con la zero per il mio volo dai 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 che c'è la fai yes se sei fatto questo vuoi fare tutto allora lanciarazzi lanciarazzi no non ho capito che cosa ha fatto lanciarazzi bravo non ho capito che ce l'hai sotto lì in angolato e se riesce ricaricare non ho capito che cosa ha fatto Vabbè è sempre un botte L'uomo ti ha fatto fare il merit Usare bouncer Vai sopra e sparagli Io farei così No forse è meno che prima ci cura E' ma ora è curato Usare è meglio No Fa prima far così Ma è sotto Eh si infatti c'è un razzo Tanto ce n'hai 11 No No Oh che la sei E' lì e' lì e' lì Già vai Ora ti converrei a pesare le bouncer Sì perché ti portano su Ma quanto è scarso sto qua Tanto Perché c'è non Non capisco Com'è che l'ha fatto fare BAMMA Mi ho fatto fare tre meriti praticamente Yes Quante kill? 16 Vabbè io ho Quattro 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 Tesissima Devo tornare il lobby Io stop Io stop perché devo riprendere Gioco solo sera Ok Bene ciao Quattro